Sono Piero Fassino, sindaco di Torino e per quattro anni, dal 2007 al 2011, sono stato l'inviato speciale dell'Unione Europea per la Birmania. Guardo con grande speranza all'evoluzione che è in corso in quel Paese e esprimo per questo sostegno e solidarietà a Usan Suu Kyi e a tutti coloro che si battono perché la Birmania possa conoscere una transizione democratica e finalmente possa aprirsi una pagina nuova nella vita di quel Paese.